L'offerta formativa che il liceo scientifico Marconi presenta ai suoi studenti ad ogni anno scolastico si allarga sempre di più. Un laboratorio di biotecnologie è l'ultima innovativa proposta indirizzata allo studio delle scienze al microscopio, con il taglio del nastro avvenuto questa mattina sotto gli occhi curiosi di diverse autorità, come quelli del dirigente delle scuole delle Marche, Ugo Filisetti. Un laboratorio che è stato portato a termine grazie al secondo posizionamento raggiunto dal liceo al concorso Med for Science, un progetto pensato dalla fondazione di Asorin, che ogni anno è impegnata nella promozione della cultura scientifica nelle scuole italiane. Il liceo Marconi di Pesaro ha vinto l'edizione 2021, si è classificato al secondo posto con un progetto molto innovativo ed originale che riguarda l'utilizzo della noce di mare, che è particolarmente frequente nelle acque di questa regione, vincendo un finanziamento di 37 mila euro, che sono serviti sia per l'implementazione del laboratorio, quindi per acquistare strumenti necessari per la realizzazione di questo progetto, che per acquistare proprio i materiali reagenti di laboratorio. Fondazione di Asorin, inoltre, è impegnata anche nella formazione degli insegnanti, per cui i docenti del liceo Marconi di Pesaro hanno frequentato dei corsi di formazione, proprio teorici e pratici, in laboratorio, per iniziare a prendere dimestichezza con queste nuove tecnologie. Ad oggi il progetto Med for Science ha coinvolto circa 400 scuole in Italia e di Asorin prima e fondazione adesso hanno investito più di 800 mila euro nell'implementazione dei laboratori. Il laboratorio sarà uno spazio che gli studenti del liceo, in particolar modo gli iscritti al triennio, potranno usufruire all'interno del loro piano di studi, entrando in contatto con tecnologie all'avanguardia che raramente si possono trovare all'interno di una scuola. Nel progetto presentato dal Marconi è stato preso come punto di riferimento il luogo di Baia Flaminia, un ambiente fortemente antropizzato, ma ancora molto naturale, dove poterne studiare l'ecologia e la conservazione. All'interno di questo percorso gli studenti liceali potranno intraprendere degli studi biochimici e genetici della noce di mare, uno degli elementi centrali del progetto presentato al concorso. Un organismo che non è naturale nel nostro mare, che quindi è un forte inquinante, altera molti equilibri ecologici e quindi eliminarlo, studiarlo è interessante dal punto di vista scientifico, ma eliminarlo dall'ambiente potrebbe essere, diciamo, deve essere una delle strategie e degli obiettivi da porci. Contemporaneamente però potremo utilizzare questo organismo che è principalmente costituito da collagene, una proteina molto diffusa in natura, che può essere però sfruttata per poter produrre plastica biodegradabile. Riuscissimo appunto a sportarla e utilizzarla per costruire, l'idea nostra era di fare le calze, quelle che si usano per far crescere i mitili nella mitilicoltura dell'adriatico e molto diffusa. Noi troviamo spesso dei residui di queste plastiche tubolari che sono molto inquinanti, invece facendole con materiale biodegradabile, appunto chiudiamo un circuito e non abbiamo, diciamo, inquinamento così pesante. È una cosa diversa, diciamo, dal solito, che ovviamente non tutte le scuole si fa e quindi ovviamente siamo molto contenti perché ci ha dato anche conferma che abbiamo delle competenze abbastanza importanti e cerchiamo sempre di migliorarci. Crediamo che la scienza, conoscendola, possiamo avere una visione completa del mondo e quindi essere più consapevoli di quello che abbiamo intorno. Il laboratorio avrà una dedica speciale a Carlo Urbani, medico e microbiologo marchigiano, primo ad identificare e classificare la SARS o polmonite atipica, di cui lui stesso è poi stato vittima nel 2003. Il Dipartimento di Scienza ha ritenuto che il nuovo laboratorio, nato in piena pandemia, non potesse avere miglior punto di riferimento.